Nella memoria del telefono aveva foto e video che lasciavano pensare a una vicinanza agli ambienti del fondamentalismo islamico. Un 27enne marocchino già destinatario di un ordine di espulsione, intercettato il 5 marzo dai poliziotti delle volanti, dovrà fare ritorno in Nord Africa. Durante un servizio di pattugliamento svolto con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, gli agenti hanno fermato il giovane nel piazzale della stazione di Feltre, ma il 27enne non aveva con sé né il permesso di soggiorno né altri documenti. Durante l'identificazione in questura è emerso come a carico del nordafricano ci fosse un ordine di espulsione emesso nell'agosto del 2017 dalla questura di Cagliari. Così è scattato un secondo provvedimento di allontanamento dall'Italia. Durante alcuni approfondimenti il ragazzo, su richiesta degli agenti, ha mostrato il contenuto del suo cellulare. I poliziotti, notando il materiale sospetto, hanno informato la Digos. Il ragazzo, non essendo stato arrestato, è stato lasciato andare anche se gli agenti avevano in mano indirizzi, numeri di telefono e dati sugli spostamenti. Ulteriori indagini hanno portato alla ricerca del marocchino che a quel punto si sarebbe dovuto trovare a Feltre, a casa dei genitori. Martedì notte la polizia ha bussato quella porta per l'accompagnamento al centro permanenza per il rimpattere di Torino, ma il 27enne era sparito con tutte le sue cose. mercoledì la ricerca tappeto conclusasi con il ritrovamento del giovane, che si era nascosta in una soffitta di connazionali. A quel punto è partito l'iter per l'espulsione. Lunedì la convalida del trattenimento nel centro rimpattere di Torino, anticamera di un ritorno forzato in Marocco.